Buongiorno e benvenuti a set in punto. Questa mattina parliamo di sport, di campioni olimpici e lo facciamo con Andrea Vidotti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Manager sportivo, ma in realtà c'è solo un dato, manager di Sofia Goggia. E non solo, cinque campioni delle recentissime Olimpiadi di Pyongyang, ma ha una lunga carriera di vicinanza con grandi campioni, soprattutto degli sport invernali, ma non solo. Sì, devo dire di sì che c'è questo tipo di specializzazione negli sport invernali. Si sono concluse da poco le Olimpiadi in Corea e la grossa soddisfazione è stata quella di vincere cinque medaglie con gli atleti da noi gestiti sulle dieci totali dell'Italia. Quindi diciamo che un 50% parla un po' Veneto e di questo ne siamo sicuramente orgogliosi. Ma io soprattutto sono molto contento per gli atleti che gestisco perché ci hanno messo un impegno che va al di là di ogni previsione. Nel senso che il sogno di un atleta è quello di arrivare all'Olimpiade, ma vincere una medaglia ti permette di entrare nella storia e nella leggenda. Che cosa intende lei per gestire un atleta? Che cosa fa lei per loro e loro per lei? E come si mette in moto un meccanismo di interrelazione, intermediazione tra questi ragazzi giovanissimi che diventano degli idoli dalla sera alla mattina e quindi hanno bisogno di relazionarsi con i media, ma non solo, anche con gli sponsor. Sì, ha detto giustamente lei, è un lavoro che va in una duplice direzione. Da una parte la gestione dell'immagine, la cura dell'immagine dell'atleta e quindi i rapporti con i media e dall'altro invece marketing vero e proprio, cioè ricerca degli sponsor, ma soprattutto anche rapporto e relazione con le aziende sponsor. Non dimentichiamo che questi sono atleti che Sofia Goggia per esempio fa quattro specialità, quindi praticamente tutti i giorni è in allenamento, sempre 365 giorni all'anno. Trovare anche il tempo per fare l'extra sci diventa abbastanza complicato, per cui se c'è una persona, se c'è una struttura in grado di agevolarli questo tipo di lavoro è sicuramente importante per loro. Normalmente il contatto inizia quando l'atleta si rende conto di non riuscire più a gestire l'extra sci e per cui ha bisogno di una persona, appunto di una struttura che gli dia una mano in questo. Il mio caso è particolare perché sono gli atleti che sono venuti a bussare alla mia porta per questi vent'anni di carriera che ho in questo settore del marketing sportivo. Tanti anni fa un certo Alberto che di cognome faceva tomba. Esatto, lui è stato il primo e da lì in poi Giorgio Rocca, Christophe Nerofer e tutta una serie di atleti con cui si instaura questo tipo di rapporto. Prima di tutto ci deve essere alla base un rapporto di fiducia, fiducia reciproca. Se non ci fosse questa fiducia probabilmente non avrebbe senso lavorare assieme perché l'atleta si deve fidare completamente di te, perché comunque si parla anche di denaro, si parla di rapporti con aziende importanti e per cui ci deve essere appunto questo tipo di relazione con l'atleta. Teniamo conto che sono atleti, tra virgolette, dilettanti, nel senso che l'immagine è di proprietà della loro federazione, della Federazione Italiana Sport Invernali e sono tutti atleti che fanno parte di un gruppo militare, cioè sono dall'inizio della carriera arruolati e quindi c'è chi è nelle fiamme gialle, chi è nella polizia di Stato, chi è nei carabinieri. Una volta c'era la forestale che adesso è confluita nei carabinieri. E quindi diciamo quella è un po' la loro sicurezza, nel senso che anche quando termineranno la carriera molti di loro resteranno nel gruppo militare come allenatori o come istruttori. Però quella è la loro sicurezza ma al contempo impone delle regole che non sono le regole del libero professionista. Quindi anche al di là di quello che è il regolamento sportivo, anche un regolamento legato alla loro appartenenza impone certi passi piuttosto che altri. Quindi è questo anche un po' il suo compito, aiutarli a saper gestire l'extra sci, come l'ha chiamato lei, nel rispetto di quelle che sono delle regole ma anche poi delle regole d'immagine. Perché è abbastanza facile incappare bravissimi come atleti, campioni, ma poi magari si possono smontare da un punto di vista dell'immagine, che poi è fondamentale, credo anche nella resa sportiva. Assolutamente sì, c'è grande attenzione per quella che è l'immagine personale di questi atleti. Ci deve essere il rispetto delle regole. Faccio un esempio. Sofia Goggia che va da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, deve chiedere il permesso al suo gruppo militare, perché comunque lei è arruolata e quindi a tutti gli effetti è una dipendente delle fiamme gialle e ci deve essere appunto una procedura burocratica per cui viene chiesto il permesso e il gruppo militare anche decide se lei deve andare in divisa o se può andare in abiti civili, perché comunque a tutti gli effetti appunto è una arruolata del gruppo militare. Dicevo prima dell'estrema attenzione che c'è per quanto riguarda l'immagine. Molto è stato, un grande cambiamento epocale sono stati i social. Con l'avvento dei social gli atleti si sono resi conto che anche quello diventa per loro un lavoro, perché le aziende comunicano attraverso i social l'abbinamento tra il prodotto e l'atleta. Ovviamente non deve essere una marchetta eccessiva, deve essere fatto in una certa maniera e quindi anche in questo noi cerchiamo di aiutarli. Premetto che tutti gli atleti che noi seguiamo si arrangiano per quanto riguarda i social, però magari dargli un piano editoriale, dargli un consiglio sugli orari in cui pubblicare, fare un mix tra post privati e post legati alla loro attività. Sono tutte cose molto importanti e posso darvi un dato che vi fa capire un po' la crescita. Sofia Goggia il giorno della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang è aumentata di 40.000 followers su Instagram. Nel mese di gennaio, che ha vinto a Cortina, ha fatto la doppietta di vittoria in Coppa del Mondo, è aumentata di 30.000. Quindi sono numeri di un certo tipo. Però qualcuno potrebbe dire, no? È tutto business e c'è il rischio che anche quegli sport non contaminati diventino un po' come il calcio. Cioè, perché poi l'immagine, e anche l'immagine bella, pulita, gli atleti, i campioni sono diventati testimonial di valori, proprio per evitare una mercificazione poi, no? Mi fa molto piacere che lei mi faccia questa domanda, perché sono contento di risponderle con una cosa fondamentale, che gli atleti che io seguo hanno una grande passione per quello che fanno. Quindi la prima cosa relativa alla loro attività è la passione. Spesso quando io sento Cristo a Finerofer, la sera prima di una gara, gli dico vai e divertiti. E lui mi dice, sai che quando io mi diverto a volte vinco. Quindi questo per spiegare che grande passione, cioè non è la spinta e la molla del guadagno economico, del vincere la gara, eccetera. Questi sono atleti che veramente hanno una grande passione. E devo dire che in questo mi sento molto vicino agli atleti che seguo, perché anch'io ho una grande passione per il lavoro che faccio. Quindi abbiamo una similitudine, loro nella loro attività, un approccio di valore. Il discorso dei valori che lei diceva è importantissimo, perché è vero che è sbagliato avere un'eccessiva immagine business. Però tanto tu sei bravo a esprimere i tuoi valori, tanto un'azienda sarà interessata a te. Tanto la vicinanza dell'identità aziendale è vicina ai valori che l'atleta esprime, tanto ci sarà la possibilità di stringere un accordo con questa azienda. Quindi lei vuole dirmi che se c'è un'azienda che non ha dei valori che corrispondono ai suoi atleti, in qualche modo a prescindere da quanto questa azienda può essere disposta a pagare. Perché in un momento come questo, dove un nome per esiti sportivi diventa, lei parlava di aumento dei followers, ma diventa i social poi sono una leva infinita, è capace di dire di no se non corrisponde a quell'immagine, che poi l'immagine è l'essenza dell'atleta stesso? Allora, teniamo conto che comunque le vittorie e i risultati importanti sono un elemento fondamentale nell'accordo, ma non è sufficiente, non basta. Ci devono essere alla base dei valori e questi valori se non corrispondono a quelli che sono i valori dell'identità aziendale, è probabile che l'azienda alla fine non faccia questo tipo di investimento, perché non sente l'atleta così vicino alla propria identità. Però ci sono dei casi, chiaramente io vorrei citare un esempio di tanti anni fa, di una sponsorizzazione riuscitissima, prima lei citava Alberto Tomba, se vi ricordate Alberto Tomba e Barilla era un abbinamento fortissimo, perché uno pensava a Barilla e gli veniva in mente Tomba, pensavi a Tomba e veniva in mente Barilla. Posso dirle che secondo me Alberto Tomba ha sdoganato anche questa immagine dello sportivo che diventa testimonial di prodotto in senso lato? Assolutamente sì. Quindi lo sponsor, mi sembra che questa immagine di Alberto Tomba, sarà che arrivava dalla pianura, no? Sì. E quindi in qualche modo ha dato un nuovo smalto a questa impostazione, senza per questo né demonizzare in un senso né in un altro. Assolutamente sì, ma è vero quello che dice lei e io mi rendo conto nei rapporti che ci sono oggigiorno con gli atleti che io seguo, che il rapporto con l'azienda diventa quasi un rapporto, tra virgolette, familiare, nel senso che si creano e si instaurano dei rapporti con i manager di questa azienda molto, molto forti. C'è una forte condivisione sia dei risultati che dei valori e quindi molto spesso l'azienda che sponsorizza e l'atleta vanno veramente a braccetto. Com'è Sofia? Perché siamo curiosi, voglio dire, che l'aspetto del marketing agli giornalisti interessa fino a un certo punto. È interessante vedere le dinamiche di come nascono alcuni personaggi che partono sempre dal valore sportivo e questa è la forza dirompente di questi nuovi testimonial rispetto a personaggi pubblici dello spettacolo, eccetera, eccetera. Sofia Goggia è sorprendente, secondo me, questo può essere il termine che la definisce, nel senso che ha un'intelligenza viva e pronta, forse anche superiore alla media, nel senso che per tradizione familiare il papà è ingegnere, la mamma è insegnante, e lei ha una cultura che spazia veramente a 360 gradi, dai classici inglesi a Itaca, che è la sua poesia preferita, c'è sempre un libro sul suo comodino, è iscritta all'università online, probabilmente fa uno o due esami all'anno perché ovviamente non riesce per motivi di tempo. Però sfattiamo anche il mito per cui chi è un atleta di grandissimo livello magari zoppica in altri ambiti, cioè la possibilità di avere una preparazione a 360 gradi. Infatti devo dire che i media l'apprezzano molto, i giornalisti l'apprezzano molto nelle interviste perché non è mai scontata, non è mai banale, ha sempre un qualcosa di particolare da raccontare, soprattutto perché ricordiamoci che oggigiorno quello che funziona sono le storie e lei ultimamente ha raccontato delle belle storie, mi viene in mente per esempio il giorno in cui ha vinto la medaglia d'oro in Corea, che lei ha postato una specie di compitino di quando lei aveva dieci anni e una delle domande, ed era una scheda del suo Chic Lab e una delle domande era qual era il tuo sogno vincere la medaglia d'oro nella discesa libera e questo dopo più di 15 anni si è avverato. La sottolineatura di quello che si definisce storytelling, raccontare le storie, gli aspetti particolari anche personali senza diventare, senza svelare la privacy di ogni singolo individuo è merito dei social o anche intuizione di persone che fanno il suo lavoro? I social hanno aiutato molto, addirittura le storie con i filmati, con i video mettono in risalto la quotidianità di questi atleti, quindi momenti anche in cui loro magari si trasferiscono da una gara all'altra o sono a mangiare con degli amici, eccetera, eccetera quindi è una sorta anche di backstage della loro attività e questo è molto importante per raccontare la loro quotidianità. E' chiaro che anche noi nel nostro piccolo ci mettiamo del nostro per far emergere determinati spunti o determinate caratteristiche dell'atleta perché comunque io penso, la mia convinzione dopo tanti anni di carriera è che l'atleta deve rappresentare quello che effettivamente è non deve essere un qualcosa di artefatto, non deve essere costruito ma esattamente quello che è. Quindi se è divo è giusto che si proponga come divo? Assolutamente, se è umile che rimanga una persona umile. Cioè che ci sia un'immagine di se stessa corrispondente. Voglio fare un esempio che è molto calzante secondo me, Dorotea Wierer fa uno sport che è prettamente maschile, che è il biathlon, dove si spara e si fa fondo, però lei in questo sport riesce a mantenere la sua grande femminilità e quindi un filo di trucco, gli orecchini anche quando va sul podio eccetera eccetera. E infatti ho notato che la stampa comunque ha percepito quest'immagine che noi volevamo dare di lei, ma non volevamo dare perché è la sua immagine. Perché è giusto che sia, perché non si capisce perché uno si debba mortificare. Assolutamente. La pellegrini giustamente con le unghie smaltate, se ci sono degli impedimenti nello svolgimento della disciplina sportiva è ovvio, ma altrimenti non si capisce. La definizione di Wierer era fucile e tacco 12, che è perfetta secondo me, quindi voglio dire nella sua attività cerca di dare il massimo facendo l'end plane al poligono e spingendo nello sci di fondo, però poi fuori dal poligono è una donna con tutte le sue caratteristiche e le sue particolarità. Atleti e atlete che giustamente è normale che sia, cavalcano anche il momento narcisistico dettato comunque da risultati che sono frutto di una fatica, quindi secondo me è un giusto viatico per aspirare a diventare personaggi che vengono in qualche modo travolti dalla fama e dall'essere in primo piano, oppure in qualche modo mantengono sempre salda l'attaccamento all'attività sportiva, cioè come si conciliano questi due elementi? Allora io le racconterei l'anno che ha vissuto Sofia Goggia, che è stato molto particolare, perché lei da zero vittorie è arrivata a fare 13 podi in una stagione, quindi a battere il record di Deborah Compagnoni, a fare due vittorie e a vincere una medaglia di bronzo ai mondiali di St. Moritz, quindi da niente è arrivata a questo livello. Finita la stagione è cominciato un bersagliamento dei media pazzesco e lei all'inizio l'ha vissuto con grande entusiasmo anche perché ti piace una cosa così, poi però diventa invadente quando è esagerato. A un certo punto lei ha raccontato di sentirsi risucchiata in un vortice e di non riuscire più a uscire da questo vortice. Quando tu passi da 2-3 telefonate al giorno a 100 telefonate al giorno, da una intervista e non sei preparata a questo, rischi veramente di andare... Quindi erano praticamente dirottate su di lei? Alcune erano dirottate su di me, cercavamo assolutamente di selezionarle, per esempio adesso quando lei ha vinto la medaglia d'oro ovviamente sono arrivate le richieste più disparate di presenza eccetera. Ho parlato con Sofia dopo la sua vittoria e lei ha fatto una scelta ben precisa. Non voglio festeggiare e non voglio fare interviste perché ho un altro obiettivo, poter vincere la Coppa del Mondo di discesa. Allora era secondo me lecito che lei festeggiasse perché una cosa talmente grande come una medaglia d'oro olimpica ci stava, però ho molto apprezzato questa sua volontà di concentrazione, volontà di estragnarsi da tutto. È stata anche criticata per questo perché hanno detto te la stai tirando eccetera Vabbè è classico, perché? Però cosa è successo? Che lei si è portata a casa questa Coppa del Mondo di discesa, quindi voglio dire fare la doppietta medaglia d'oro olimpica e Coppa del Mondo di discesa è stata una cosa. Vuol dire anche grande maturità, essere riuscita a gestire un risultato e tenere la barra dritta perché probabilmente, ecco, forse qui possiamo smentire chi attribuisce a questi atleti quando magari appaiono su riviste, in televisione e adesso se la tirano, però io dico sempre che hanno anche tutto il diritto di tirarsela perché hanno dietro le spalle dei risultati che per ottenerli, però questo significa, lei parlava di Sofia, che l'obiettivo resta il risultato sportivo. Il risultato sportivo, assolutamente. Cioè l'immagine è un elemento, è un corredo, un complemento giusto, legittimo, sacrosanto. E torniamo al discorso della passione, cioè è la passione che ti spinge a dire avrei potuto mollare perché comunque vincendo le Olimpiade, no. Adesso c'è un altro obiettivo, ha vinto la Coppa del Mondo, è ripartita per i campionati italiani. Anche lì voglio dire grande passione, grande voglia di dimostrare che effettivamente lei sugli sci ci sa andare e per cui in due anni ha ottenuto dei risultati veramente incredibili. La soddisfazione sua personale? La soddisfazione mia personale è vedere la loro gioia, la loro felicità per raggiungere questi risultati. Infatti io, tra virgolette, ho gioito per loro, ho un po' sofferto per Christophe Nerofer che ci mette un impegno incredibile e avrebbe meritato anche lui una medaglia a questi mondiali. È stato forse lui. Anche più conosciuto, se vogliamo. Sì, perché Christophe, lavoro con lui dal 2011, quindi sono parecchi anni che lavoriamo assieme, ha un'immagine di un certo tipo, nel senso che essendo altoatesino potrebbe sembrare chiuso, invece lui è molto estroverso, gli piace scherzare. Poi hanno anche questo elemento a loro di sfavore, che sono bardati quando gareggiano, quindi... Guardi, lei ha toccato quello... Si vedono bellissime, come si dice, tute, bellissimi caschi, bellissimi sci, ma poi tirano sugli occhiali, ma è difficile capirne la fisionomia. Assolutamente. Quindi è giusto anche che abbiano un palcoscenico in cui uno dice ah, è questo il tuo viso, il tuo volto. Lei ha centrato quello che è il nostro problema di marketing, nel senso che noi abbiamo... E qui è una sfida in più. Una sfida in più, perché noi abbiamo a che fare con la visibilità e con l'immagine di un atleta, ma se questo atleta è bardato con una maschera e con un casco, facciamo veramente difficoltà a... Per cui spesso cerchiamo di lavorare sulla loro immagine anche al di fuori del mondo dello sci. Primo, perché lo sci e gli sport invernali sono degli sport stagionali, quindi diciamo da dicembre fino a marzo. Noi invece sappiamo che è uno sport che dura tutto l'anno, perché ci si prepara, eccetera. Però è indubbio che c'è un vuoto comunicazionale nei mesi estivi. È raro trovare nelle riviste, nei giornali, delle interviste agli sciatori. Questo perché non ci sono gare, non ci sono competizioni, o forse perché c'è anche quella disattenzione per cui i riflettori si accendono in maniera invasiva quando c'è un risultato. Cioè, è tutto un po' un atteggiamento di ingordigia, no? Si vuole tutto in quel momento e poi tutti si dimenticano. Che invece, alla luce di una comunicazione fatta di storytelling, sarebbe davvero divertente parlare di un atleta in un momento meno canonico. Assolutamente sì, anche perché avrebbe meno tensioni e non è distratto dalle gare, quindi è sicuramente più tranquillo. Però è chiaro, se guardiamo anche i colleghi giornalisti che lavorano nello sci d'inverno, nel periodo estivo magari si occupano di Formula 1 o di MotoGP, vengono impegnati in altri sport e quindi... Questo è un po' un peccato, perché manca poi, viene a mancare quello che è l'approfondimento. E anche la possibilità di fare magari delle interviste che non sono tutte uguali, perché poi alla fine, in un momento, possiamo essere diversi giornalisti, ma la risposta più o meno è sempre la stessa. Assolutamente. E quindi abbiamo articoli fotocopie alle volte. Nel caso di Sofia però stiamo un po' facendo quel salto, no? Io la paragonerei a una Federica Pellegrini, che questo salto l'ha fatto già da tanti anni. Cioè non è legata al suo ambiente nuoto, ma è riuscita a fare quel salto in più. È personaggio a tutto tondo, è conosciuta a livello internazionale e non è conosciuta solo dall'appassionato di nuoto, è conosciuta anche da chi di nuoto ne sa molto poco. In quanto campione. Esatto. Sofia cosa vorrebbe fare da grande? È piccolissima ancora. Scrivere sicuramente, perché ha una passione per la scrittura. Lei ha un suo diario dove si annota delle cose. Non lo so se, visto che ha ancora parecchi anni di carriera, se resterà nell'ambiente come allenatore, istruttore. Questa è una decisione che di solito uno prende a fine stagione, a fine carriera, però per il momento non ha ancora le grecce. Però non c'è solo Sofia. No, non c'è solo Sofia. Parliamo anche degli altri. Parliamo degli altri. C'è anche un'altra ragazza. Allora, l'altra medaglia d'oro, visto che è stata un'Olimpiade, è molto donna, è Michela Moioli. Ha solo 22 anni, ma ha già vinto tutto nello snowboard. Tra l'altro fa uno sport che è molto giovanile, piace molto ai ragazzi. Molto grintoso. Lei è pazzesca, perché ha una forza mentale incredibile, perché è arrivata alle Olimpiadi da favorita, e questo molte volte non è un vantaggio. Non è un vantaggio, perché ha una responsabilità molto grossa. Invece lei è riuscita a vincere questa gara in maniera incredibile, e anche lei, finita le Olimpiadi, è tornata in gara e ha vinto la Coppa del Mondo. Quindi, Sofia e Michela, tutti e due di Bergamo, e tutti e due hanno fatto la doppietta. Poi, medaglia d'argento Federico Pellegrino, nel fondo, è la persona che è riuscita a trainare da solo questo sport, perché in questo momento, nello sci di fondo, è la persona che ha vinto di più. Una volta nello sci di fondo si vinceva a 30 anni, a 31 anni, quindi era lo sport della maturità. Lui ha cominciato a vincere a 23-24. Senti perché è faticoso. È molto faticoso. Lui poi fa una disciplina dove il mix fisico e mente è molto importante, nel senso che facendo lo sprint deve usare anche la tattica, oltre che la forza, e quindi deve un po' fare la corsa sugli altri cinque. Però io l'ho definito un computer con un cuore che pulsa, ed è vero, perché ha una cura dei particolari che è maniacale. Pensi solo a questo. Due anni fa ha vinto la Coppa del Mondo, che non l'aveva mai vinta un non nordico. L'anno scorso ha vinto la medaglia d'oro ai campionati del mondo. Quest'anno ha vinto la medaglia del reggente alle Olimpiadi. Cioè, ogni anno ha un obiettivo e lo raggiunge. Lei vince tutte queste medaglie, in qualche modo? Le vincono loro. Le vincono loro e io sono felice per loro. E' chiaro che è una soddisfazione anche per me e per l'Agenzia Ideuropea che ho fondato. E che rimane a Treviso. Questa è anche la sorpresa, perché c'è la voglia quasi di mantenere quella dimensione territoriale. È un termine un po' abusato che fa la differenza, secondo lei? Assolutamente sì. Siamo nati 17 anni fa, ma siamo orgogliosi di essere trevigiani, di essere a Treviso e di mantenere la nostra identità nella nostra regione. Abbiamo ovviamente anche un ufficio a Milano, perché la comunicazione si fa a Milano. Però diciamo che il quartiere generale è a Treviso e anche gli atleti quando vengono a trovarci, vengono a Treviso e ci bevono anche un bicchiere di prosecco. Quindi Olimpiadi Invernali necessariamente sulle Dolomiti, altro che Torino? Io sono uno dei sostenitori di questa ipotesi. Abbiamo la fortuna di avere i mondiali di sci alpino nel 2021 a Cortina e quindi determinate strutture stanno per essere approntate a Cortina. Perché non sfruttare le montagne più belle del mondo? Le Dolomiti... Anche quelle trentine, ovviamente. Anche quelle trentine, anche quelle... Perché stanno già un po' ditigando, no? Sì, no, no, io citerei sia le montagne trentine e quelle anche della provincia di Bolzano. Quindi non voglio assolutamente fare differenza. Tutte le montagne del nord-est. Però sarebbe per la prima volta un'Olimpiade non di un paese solamente, ma di un territorio. Di un territorio legato alle Olimpiadi, legato alle Dolomiti. E sarebbe veramente importante perché potremmo fare sicuramente lo sci alpino a Cortina, Corvara o Val Gardena, i trampolini in Val di Fiemme, lo sci di fondo... Cioè, poter dividere queste varie attività in tutta la zona. Quanto è importante per essere un manager sportivo fare sport? Sicuramente il fare sport ti aiuta, perché comunque è un momento anche di scarico, è un momento anche in cui riesci a dimenticare le preoccupazioni del lavoro, la quotidianità. E fare sport per me è fondamentale. Sciare, andare in palestra, andare in bicicletta, camminare. Sono tutte cose che secondo me fanno bene. Io cerco di insegnare ai miei figli, perché ho notato per esperienza che chi riesce bene nello sport quasi automaticamente riesce bene anche a scuola. E questo perché ci si abitua alla fatica, ci si abitua anche alle sconfitte, ci si abitua ad un allenamento? Assolutamente sì, perché comunque, per esempio, se fai anche uno sport di squadra, come può essere il calcio, il basket, la pallavolo, ci sono delle regole da seguire e c'è il rispetto nei confronti di quello che è il mister o il coach, che è un po' poi l'insegnante che hai a scuola, no? E quindi il rispetto delle regole nello sport è assimilabile anche a quello che è il rispetto delle regole poi nella vita di tutti i giorni. Posso essere in chiusura impertinente? Quanto è aumentata la sua fama dopo tutte queste medaglie? No, la mia fama non è aumentata, è aumentata sicuramente quella dei miei atleti. Forse è aumentata la mia fame, che è quella di vincere ancora, perché comunque quando gli atleti ottengono risultati di questo tipo, io sono felicissimo per loro. Quindi ha già docchiato nuovi talenti? Sì, ho già docchiato nuovi talenti e devo dire che si stanno avvicinando anche atleti di sport non prettamente invernali, quindi di sport estivi, come possono essere il nuoto, la pallacanestra. Quindi l'aspettiamo in estate a parlare di queste nuove sport. Molto volentieri. Ringrazio, non ho più tempo Andrea Vidotti per questa interessante panoramica su Valore dello Sport. Torniamo domani mattina. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.